Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Il viaggio di Matteo Renzi in treno, la seconda tappa questa mattina a Fano Il segretario del PD elogia le marche Un uomo travolto da un treno in provincia di Ancona Il carnevale dei bambini sarà gratuito, spiraglia anche per la Fano dei Cesari In uscita al cinema un nuovo film in dialetto fanese, la famiglia Ordonselli per la regia di Paolo Delbianco Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale sul canale 17 Occhio alla Notizia Dunque come avete sentito questa mattina Matteo Renzi, il segretario del PD Ha fatto tappa a Fano per il suo tour in giro per l'Italia Doveva arrivare alle 8.45 di questa mattina Ed invece il suo treno speciale destinazione Italia Ha fatto ingresso in stazione a Fano ieri sera alle 23.20 Spiazzando tutti, cronisti e testate giornalistiche Meno i soliti beni informati e gli appartenenti alla sezione fanese del PD Con i relativi assessori che lo hanno aspettato sulla banchina del binario Ed accolto calorosamente Questa mattina quindi programma stravolto Niente passeggiata tra i banchi del mercato E il rullino di marcia invertito Con un quarto d'ora accademico di ritardo Ma i 60 minuti di Renzi sono finiti puntuali alle 10.10 Questo viaggio entrano serve per ascoltare Non è il solito tour in campagna elettorale Tante volte li ho fatti anch'io in cui uno va e parla Ma incontriamo realtà diverse Oggi abbiamo incontrato realtà legate alle start-up Legate all'innovazione, al farmaceutico Alla cultura, alla tradizione archeologica di questa città Dunque un viaggio nell'Italia profonda In questo caso delle Marche che sono una regione meravigliosa Per la quale dobbiamo lavorare di più sul terremoto Ma che continueremo a seguire con grande intensità La giornata renziana inizia quindi varcando porta maggiore Alle 9.25 in un pincio presidiato In forze da carabinieri e reparto celere Oltre che da numerose unità della polizia locale E personale in borghese Che ha assicurato un percorso in sicurezza All'ex premier Il quale dopo pochi passi È stato accolto dalle autorità cittadine Sindaco in testa Nel suo breve tragitto non ha mancato di fare un po' di pubbliche relazioni Con una mamma con Carozzino Che ha rischiato di essere travolta dalle truppe e dai giornalisti Che lo precedevano Tempi serrati anche per il momento culturale del suo passaggio a Fano La visita al museo virtuale della via Flaminia Chi è questa struttura? In realtà Questo è il distretto culturale evoluto È un progetto finanziato dalla regione Marche Rapito dalle delucidazioni del professor Clini Responsabile scientifico del progetto Sulla portata tecnologica di questo spazio Ha subito calato l'asso Ditemi cosa vi serve Il sindaco lo informa dell'acquisizione del teatro romano Quanto vi costa? Chiede a seguito E l'assessore Marchegiani Pensando alle potenzialità di una simile occasione Si lascia scappare un 5 milioni di euro Possono bastare? Chissà vedremo se il potenziale premier si ricorderà di tutto questo Certo è che uscendo e apponendo la firma sul registro Il commento è stato Questo è il modo giusto per avvicinare i giovani alla storia e all'arte E si sono fatte le 9.45 La sala San Michele Dove il rettore dell'università di Urbino, Vilberto Stocchi Ed il direttore del dipartimento di biotecnologia Lo attendono per mostrare gli spin-off dell'università E le start-up del settore scientifico E anche le esperienze di Coworking Create da Cora Fattori e dai suoi collaboratori Come alternativa al posto fisso E per dare ai giovani che vogliono farsi spazio nell'imprenditoria Un punto di partenza Renzi chiudendo la giornata con il suo intervento Su questo argomento chiude dicendo Non credo che il posto fisso non ci sia più Ma la società è cambiata O abbiamo la mentalità pronta ad aprirsi e a mettersi in gioco O non andiamo da nessuna parte E poi si tuffa nel pulmino e sale sul treno Lo attende la seconda tappa marchigiana Le zone terremotate E come è andata questa seconda tappa Lo abbiamo chiesto anche al sindaco E agli altri amministratori presenti durante l'incontro Stamattina ha preso il veloce cambio di programma Ci siamo ritrovati tutti davanti al museo sulla via Flaminia Ad aspettare Matteo Renzi Arrivare direttamente dall'hotel dove ha trascorso la notte Anziché dal treno in stazione Ma dal suo staff nessuna meraviglia Ormai sono abituati ai repentini cambi di programma Del segretario del Partito Democratico In effetti a giudicare dalle face anche dei suoi colleghi di partito locali Ma che gravitano nella segreteria nazionale come Matteo Ricci Non traspare meraviglia Sembrano appunto abituati L'intero apparato locale e regionale del partito E qui ad aspettarlo assieme agli amministratori locali di appartenenza Cecchetelli, Marchegiani, Fanesi E dal sindaco Massimo Seri Nella sua istituzionale funzione di padrone di casa E' sempre un momento importante Il fatto che ci sia attenzione per una città E che si dedichi una tappa a Fano Da figure come quella di Renzi Che è già stato Presidente del Consiglio dei Ministri Segretario del Partito Democratico Ma candidato a guidare il prossimo governo E' un momento importante Un'occasione anche per trasmettere Quelle che sono i fabbisogni e le aspettative Che i territori hanno Perché chi governa deve avere la capacità Di leggere anche il territorio Di intuire e sapere anticipare E quindi mi sembra anche un atteggiamento maturo Ed intelligente Quello di fare un percorso di ascolto E non solo di racconto Contemporaneamente però Essere in grado di far funzionare Un tour quello di Renzi Dedicato all'ascolto e agli appunti Speriamo che di Blocknotes Sul treno se ne sia portati una bella scorta Perché nelle 107 località Che toccherà per tutto lo stivale Non gli mancheranno certo gli spunti A cominciare proprio dalle marche Dove economia e infrastrutture Aspettano un impulso Che la timida ripresa economica recente Non può certo assicurare Consapevolezza insomma che siamo un territorio Fortemente colpito dalla crisi Per le caratteristiche che aveva Che si sta rimettendo in moto Imprese che finalmente vedono un segno positivo Ma ancora tanta occupazione da recuperare Ed è chiaro che il gap infrastrutturale Aiuta e favorisce lo sviluppo L'insediamento delle imprese Una terra fatta di persone concrete Che hanno avuto la capacità per tanti anni Di sostenere l'economia Fatta di piccole e piccolissime realtà Che con i cambiamenti globali Se venisse messi a disposizione Gli strumenti adatti Potrebbe di nuovo rappresentare Un volano importante per il paese La campagna d'ascolto lanciata da Renzi Inizia proprio da Fano Con due eccellenze territoriali Per appuntarsi nel primo dei suoi notes L'innovazione e la ricerca Come fonti di sviluppo primarie E quindi è una tappa importante Anche rispetto alla nostra economia Perché sappiamo che Dobbiamo fortemente puntare sull'innovazione Abbiamo per fortuna belle esperienze Belle pratiche da raccontare Che possono essere anche di buon esempio Per tanti altri La cronaca Sono andati a colpo sicuro I ladri che durante la notte scorsa Hanno svaliggiato il negozio guardaroba In via Arco d'Augusto 39 A Fano Asportati solo cappi di valore Mentre sono ancora da quantificare I danni alla struttura La banda si è introdotta nel negozio Dopo aver sfondato una parete Di cartongesso sul retro Dove c'è il magazzino A metterli in fuga Però è stato l'impianto d'allarme Scattato una volta all'interno del locale Preso anche il fondocassa Di un centinaio di euro Le indagini sono condotte Dagli uomini del commissariato di Fano Un treno Freccia Bianca Ha travolto un uomo di 44 anni Di Chiaravalle Tra le stazioni di Monte Marciano E Senigallia La tragedia è avvenuta intorno alle 13.40 Al passaggio del Freccia Bianca A Lecce e Milano Secondo alcuni testimoni Si sarebbe trattato di un suicidio I macchinisti avrebbero infatti visto L'uomo sdraiato sui binari Impossibile però Visto anche l'alta velocità Fermare il treno in tempo La circolazione ferroviaria È stata interrotta su entrambi i binari Tra Monte Marciano e Senigallia Il convoglio con 450 passeggeri È ripartito alle 16.40 Torniamo a Fano Il collettivo del Grizzly Il centro autogestito Che si trova nella zona dell'aeroporto È intervenuto oggi sulla questione Dell'occupazione del locale pubblico È uscito un comunicato Sulle vostre pagine Facebook Che ripercorre un po' Quella che è il vostro pensiero A riguardo delle tante cose E voci ed espressioni Comuni su questa vicenda Quindi qual è la vostra voce A questo punto ufficiale? Ma rispetto all'ennesima interrogazione Fatta dall'opposizione Dal centro-destra Noi abbiamo sempre in qualche modo Lasciato correre Perché sappiamo Come una buonissima parte della città È consapevole Che una grandissima parte Delle accuse che ci vengono rivolte Sono assolutamente strumentali E finalizzate solo In qualche modo Ad attaccare l'amministrazione comunale Come dire Veniamo noi usati Per fare opposizione In sostanza Quindi su questo Abbiamo sempre lasciato correre Dopodiché è chiaro Che ci sono delle accuse Assolutamente infamanti Ancora oggi Qualcuno sui giornali Continua a dire Che siamo abusivi Voglio dire Invece c'è un contratto regolare Da più di due anni Quindi diciamo così Una legittimità sociale Ce la siamo già conquistata Con le attività che facciamo D'altra parte C'è stata anche Nel marzo scorso Una sentenza Che ha In qualche modo Sancito anche La nostra Bontà Diciamo Dell'iniziativa Intrapresa Perché siamo stati Assolti Dall'accusa Di occupazione Abusiva Però c'è una scadenza Prossima Che comunque Riguarda Questo aspetto Insomma Come vi state Approcciando A questo giorno Da questo punto di vista Il contratto Parla chiaramente Il contratto Che ci è stato Sottoposto E che noi abbiamo firmato Quindi sottoposto Dall'amministrazione comunale Parla chiaramente Di trovare Una sede alternativa Nel momento in cui Venissero meno Le condizioni Per stare in questo Stabile Per garantire Una sede alternativa Devono essere idone Diciamo L'allocazione Deve essere idonea Alla continuità Delle attività Che vengono svolte qua Quindi da questo punto di vista Qua noi abbiamo Sempre dato La nostra massima disponibilità Ribadiamo la nostra disponibilità Anche a spostarci Da questo stabile Dopodiché chiaramente Aspettiamo una proposta Concreta Dall'amministrazione comunale Da qui appunto Al 31-12 Anzi invitiamo L'amministrazione A fare queste proposte Noi stiamo anche Lavorando A delle proposte Da poter fare Noi All'amministrazione Quando sarà il momento Che ci sarà Un tavolo di confronto Ripeto Non abbiamo nessun problema A spostarci Dopodiché Se mancassero le condizioni Voglio dire Il posto ce l'abbiamo Rimaniamo qua Il carnevale dei bambini Quello che ormai Da diversi anni Con successo Si svolge La domenica mattina Resterà gratuito Lo ha reso noto L'ente carnevalesca di Fano Resta invece A pagamento Diventerà invece A pagamento Quello del pomeriggio Con il corso mascherato E il lancio Dei dolciuri E si sta lavorando Anche sulla possibilità Di far tornare Di riorganizzare La Fano dei Cesari La rievocazione storica Legata all'antica Roma Che però Ormai è ferma Da diversi anni Per mancanza Di fondi Allora ieri c'è stato un incontro Che così Ha fatto un po' Un punto su un aspetto Che a molti sta a cuore Ovvero sia La Fano dei Cesari La Romanità Insomma Che cosa è scaturito Da questo incontro Sì Il primo tavolo tecnico In cui ci si è incontrati Parte politica E anche gli animatori Di questa riedizione Di una Fano romana Di una settimana A tema Sulla romanità Che può essere Molto suggestiva Sulla memoria Della Fano dei Cesari Ma evidentemente Con elementi di nuovi Di novità Di perfezionamento Ma al di là Delle cose emerse Sulla stampa Che non erano state Concordate In alcun modo E' una delle suggestioni Che chi si candida A organizzare L'aveva messo Sul piatto Io e anche il sindaco Abbiamo sottolineato Che Un kermes di questo tipo Ha bisogno di finanziamenti Importanti Non si può fare Con pochi euro Perché Fano Merita Una manifestazione Che ha una memoria storica Peraltro E quindi si parte Intanto con un ricordo Di celebre edizioni Ma dopo un po' di anni C'è una riflessione Che ci consente Di rilanciare Chiaramente C'è il tema economico Il tema economico Che si è sposato A un progetto di qualità E trovare sponsorizzazioni Perché l'amministrazione Farà la sua parte Ma non può certo Accollarsi tutto l'onero Non sono più quelli tempi E siamo convinti Che è un progetto di qualità Che sappia unire Il gusto popolare Il divertimento Alla cultura Per ora Che dice la città Senza Sbaffature Senza scivolamenti Di cattivo gusto Possa essere Una carta Valida Per avere sponsorizzazioni Sono iniziati Sono iniziati questa mattina I lavori di ripulitura Delle scritte All'Anfiteatro di Bellocchi Siamo sempre a Fano Le scritte sono state cancellate Come vedete da queste immagini Dall'associazione Regresso Arti Questo è il dopo E il prima Queste sono le immagini Come si trovava appunto Fino a qualche giorno fa L'Anfiteatro di Bellocchi E sono stati ripristinati Messe in sicurezza Anche i giochi Nei giardini bracci Di fianco all'Istituto Battisti Di Fano Dopo i servizi Che abbiamo trasmesso Nel nostro telegiornale L'amministrazione di Fano Ha voluto sistemare Dunque i vecchi giochi Sostituendo Il seggiolino L'altalena Un gioco a molla Uno scivolo Insomma Tutto quello che era Un po' Messo male Poco sicuro Soprattutto per i bambini Tra qualche giorno Appena Saranno terminati I lavori Potranno essere utilizzati Dai bambini Che Potranno dunque Riappropriarsi Di questo bello Spazio verde Allora Presentato questa mattina Alla stampa Un nuovo film In dialetto Fanese Il titolo È La famiglia Ordonselli La regia Di Paolo Delbianco L'ozio Non è il padre Dei vizi Anzi È fonte Di ispirazione Lo sa bene Paolo Delbianco Che ha creato Di recente Il soggetto Di questo nuovo film In dialetto Fanese E non solo La famiglia Ordonselli Che presto Debutterà Al cinema Politeama Di cui Lo stesso Delbianco Ne è regista E produttore Assieme al suo Fraterno amico Ortensio Rivelli Che ne ha curato I dialoghi E la sceneggiatura Sì abbiamo lavorato Un anno A questo progetto Lavorando Sodo Duro Ma è stato anche Veramente bello È una bella esperienza E anche molto Molto divertente Noi speriamo anche Di far divertire I fanesi Che verranno al cinema Le strampalate avventure Di una famiglia Molto sui generis Raccontate in chiave retro Strizzando l'occhio I film anni 50 Senza troppi effetti speciali E post produzione Fatti di campi lunghi E poca macchina Ma molta interpretazione Un po' alla De Sica Gasman Fellini Ma anche con l'ironia Sempre pacata E la comicità immediata Di un totò È una barzelletta Su tante situazioni Fanesi Ma portati In un tempo In un'epoca Che sono assurdi Vedersele Dette in quelle circostanze Un cast rodato Ed affiatato Poi ha fatto il resto Unito all'esperienza Teatrale di Rivelli Hanno creato Una trama divertente Ed ironica Che parlerà di Fano E dei suoi problemi Senza però Mai mostrare Fano Almeno Ai giorni nostri Vi aspettiamo tutti Il 26 Il 29 Il 30 Tutti a Pulitia Ma per questo bellissimo Ma Gio 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 Noi ci siamo divertiti Da morire Io credo che anche voi Vedendoci Vi divertirete Allora dopo il telegiornale C'è Box Con i personaggi di Fano Di un tempo Poi in cucina con lo chef Uno speciale Sul villaggio di Natale Che è riaperto Da panicali ambienti Di Fano Domani mattina Alle 7.30 C'è la rassegna stampa Occhi e giornali Ci vediamo Arrivederci Ciao a tutti Ciao a tutti